L'amministrazione comunale con la prologo di Pianezze vi aspettano il 19 e 20 maggio alla 48esima festa della Ciliegia Sandra di Pianezze. Stand gastronomico, musica, balli e tanto divertimento. Arrestato a Napoli un 44enne che aveva messo a segno tre truffe agli anziani nel Bassanese fingendosi un carabiniere, più di 20.000 euro il bottino raccimolato dal malfattore. Bauroso schianto nella notte a stroppare diteze sul Brenta, un 27enne ha perso il controllo della sua Fiat Punto centrando una rotatoria per poi ribaltarsi. Una notte di ricerche sull'Ortigara, un 17enne di Bassano non dava più notizie da l'ore, ritrovato dal soccorso alpino in un bivacco. Telecamere al cimitero, una soluzione forzata, questa la posizione dell'amministrazione e il comune chiede alle persone di sorvegliare il luogo sacro. Basket Bassano a Padova per il secondo spareggio salvezza, questa volta il quintetto cittadino si gioca tutto. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione di Bassano Notizie, lo avete sentito, sono proprio i carabinieri di Bassano a chiudere il cerchio attorno ad un 44enne che simulava di essere uno dell'arma e truffava gli anziani. Lo hanno arrestato i carabinieri a Napoli, su di lui pesava l'accusa di truffa gravata. In tre episodi diversi aveva truffato degli anziani nel Bassanese. I carabinieri della compagnia di Bassano hanno stretto il cerchio su di lui dopo mesi di indagini. L'uomo Maurizio Savarese di 44 anni lo scorso febbraio era già stato arrestato dai militari dell'arma di Romano in stazione, mentre cercava di scappare dopo essersi impossessato di denaro e oro da una pensionata di 83 anni. Grazie a questa operazione i militari dell'arma sono riusciti a confrontare le immagini delle telecamere di videosorveglianza riguardanti altre truffe con la foto dell'uomo. Che ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia agli arresti domiciliari con braccio elettro elettronico in Napoli. Siamo stati là collaborati dai colleghi della compagnia Napoli Stella. I due episodi ricondotti a Maurizio Savarese sono di gennaio. Il primo a Vedelago e il secondo a Rossano Veneto. Nel primo caso l'uomo aveva prelevato da un 88enne 500 euro e due fedi in oro. Nel Bassanese aveva invece truffato una coppia di anziani portandogli via 3.000 euro in contanti e monili d'oro per un valore di 20.000 euro. La tecnica sempre la stessa. Si spacciava per un carabiniere e al telefono raccontava ai pensionati che il loro figlio era stato arrestato. Poi andava a casa loro per riscuotere il denaro fingendo che servisse per l'assistenza legale al figlio. L'appello è quello di mantenere un atteggiamento di assoluta precauzione, di contattare i numeri di emergenza quando si viene assolutamente sollecitati a qualunque titolo, sia telefonicamente che alla porta di casa. Buona precauzione, non aprire a chi non si conosce. Altre notizie di Cronaca nel prossimo servizio. Pauroso incidente. Questa notte a stroppari di tezze sul Brenta. Un 27enne ha perso il controllo della sua Fiat Punto e si è schiantato contro una rotonda. Dopo l'impatto l'auto si è ribaltata. Il conducente è stato soccorso dai vigili del fuoco di Bassano e dagli uomini del suo in 118. 1,55 grammi litro, il tasso alcolico dell'automobilista, tre volte il limite consentito. L'uomo è uscito dall'abitacolo con delle lesioni di media gravità. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non si avevano sue notizie da ore, per questo alle 2 di questa notte il soccorso alpino di Asiago e la polizia provinciale hanno iniziato a cercare sull'ortigaro un 18enne di Bassano. I genitori avevano allertato i carabinieri non vedendolo rientrare a casa. I soccorritori intorno alle 4.30 hanno ritrovato la vespa utilizzata dal giovane a un chilometro da Malga, Fiara. Poche ore dopo il ragazzo è stato trovato dalla polizia provinciale al bivacco Campolussi. Il giovane dopo aver fatto una camminata sul monte aveva deciso di fermarsi al bivacco per non rientrare con il puio. Una volta raggiunto il 18enne è stato riaccompagnato alla gip del soccorso alpino. L'intervento si è concluso attorno alle 7. Auto a fuoco nella notte in via Castelnuovo a Campese. A essere bruciata una Ford Focus che era parcheggiata lungo la via all'esterno delle abitazioni. Alla macchina servono stati rotti anche i finestrini. Da una prima ricostruzione dell'accaduto pare che l'incendio sia doloso. Questo sarebbe il terzo danno al veicolo che il proprietario subisce in pochi giorni. A spegnere le fiamme nella notte i vigili del fuoco di Bassano. Torniamo ora ad occuparci dei furti al cimitero. Ecco la posizione dell'amministrazione comunale. Io credo che mettere una telecamera sia un rimedio estremo. Telecamere in cimitero il comune preferisce aspettare. Gli occhi elettronici vanno bene in altri ambienti ma sarebbero fuori luogo in un posto sacro dove le persone vanno a trovare i propri cari. Questa è la posizione del comune dopo i continui furti in cimitero. Le testimonianze raccolte nel nostro servizio hanno mostrato come la situazione sia allarmante e le denunce continue. Hanno ragione, mi dispiace moltissimo per loro perché il furto in cimitero è come una violazione di un luogo sacro, un luogo che è pieno di ricordi legato proprio a ciascuno. L'amministrazione non è contraria alle telecamere ma preferirebbe utilizzare dei metodi più semplici e meno invasivi, ad esempio quello della sorveglianza da parte degli stessi visitatori. Per questo secondo l'assessore sarebbe opportuno che chi si accorgesse di episodi di furti di fiori e piante avvisasse il custode o il comune direttamente. Io chiedo a tutti i cittadini, a quelli che frequentano il cimitero soprattutto, che hanno anche a cuore la città, hanno a cuore il decoro, che hanno a cuore che ci si comporti bene, chiedo a loro di aiutarci a vigliare, a vigilare su queste situazioni per evitare che si verifichino perché evidentemente i furti vengono in orari in cui il cimitero è aperto. Mille i gazebo della Lega in tutta quanta Italia, uno di questi era anche a Bassano. Sulla piattaforma russo il 94% dei votanti ha dato il via libera al programma comune con la Lega. Il gazebo in via Vercia a Bassano totalizza una percentuale di sì molto vicina al record pentastellato nazionale. Segno che gli elettori questo governo lo vogliono e si dicono fiduciosi sulla durata dell'accordo. Io sono dei 5 stelle, però sì, l'importante secondo me, almeno per noi, sono i punti. Se questo contratto rispetta tutto quel che si è detto è già un buon inizio. Potrebbe avere un bel futuro assieme, se basta trovare dei punti d'accordo, se deve essere a tavolino, civilmente basta, perché siamo stufi di vedere i vecchi governi che ci hanno rubato soprattutto dall'A alla Z. Sì, perché l'Italia ha bisogno di essere governata. Rimane comunque l'amarezza di coloro che sono delusi dalla politica e dai suoi rappresentanti. Molto deluso, nel senso che praticamente i politici sostanzialmente hanno fatto gli affari loro e del loro partito. Cioè, anche se io penso che se anche uno ha delle idee, quando entra in un partito di quelli tradizionali, le sue idee diventano quelle del partito. Ormai non voterò mai più, perché facciamo schifo noi italiani. Delusa. De molto, molto. Marossi Gavverso, le elezioni continuano il nostro viaggio alla scoperta dei candidati. Oggi la parola va a Giorgio Santini. Giorgio Santini presenta la squadra e incontra la popolazione di Marostica per spiegare i punti che caratterizzano il programma della lista civica Impegno per Marostica e per Giorgio Santini sindaco. Cinque i capisaldi su cui si fonda il programma. Innanzitutto dobbiamo ricostruire la fiducia e la credibilità dei cittadini verso il comune di Marostica, perché veniamo da due situazioni negative di commissariamenti, c'è molto scetticismo, c'è anche difficoltà per i ritardi su opere importanti e quindi noi vogliamo assolutamente partire immediatamente nei primi mesi per riattivare e completare tutti i lavori sospesi, in particolare quelli legati all'interesse dei cittadini più immediati, la viabilità, le opere, il tema anche di illuminazione, cioè le scuole. A questi vanno poi ad aggiungersi i lavori per la piscina comunale e l'incremento dei sistemi di videosorveglianza. Giorgio Santini, 64 anni, laureato in Scienze Politiche, punta anche sulla valorizzazione del territorio comunale e sulla creazione di una rete con i comuni limitrofi che metta Marostica al centro come attore principale, tenendo ben presente anche le necessità dei cittadini. Tra i nomi della lista civica, l'ultimo presidente del Consiglio Comunale, Angela Bernardi, e l'ex assessore ai lavori pubblici, Antonio Capuzzo. In lista ha anche Matteo Minuzzo, assessore allo sport e le politiche giovanili della Giunta Scetro. Impegno della lista anche per l'abbattimento delle barriere architettoniche e per lo sviluppo dell'innovazione che, secondo Santini, passa attraverso la digitalizzazione delle attività amministrative e le politiche per il risparmio energetico. Diciannovesima edizione per il premio Viscidi sulla donazione del sangue. Lo scorso anno noi abbiamo fatto 8.142 donazioni di sangue, abbiamo avuto 747 neodonatori, ogni anno c'è un giro di donatori perché abbiamo gli anziani che escono e i giovani che entrano. Speriamo di poter mantenere questo livello perché fino adesso siamo riusciti a dare l'autosufficienza all'ospedale San Bassiano. Sono ben 14 le scuole del territorio che hanno aderito all'edizione di quest'anno del premio e che attraverso sculture, disegni, poesie hanno espresso la propria creatività e la loro visione di solidarietà e condivisione. L'obiettivo della famiglia Viscidi e dei donatori dell'associazione di dono del sangue e di organi, infatti, è quella di sensibilizzare i più giovani su un'operazione di straordinaria importanza per la società. Grazie ad esempio alle donazioni della sezione Monte Grappa, l'ospedale San Bassiano ha il numero sufficiente di sacche di sangue e di plasma per ritenersi autonomo. Lo spirito è lo spirito di cercare di infondere nei ragazzi delle scuole medie proprio questo senso di solidarietà e questo senso di altruismo e quindi attraverso questo premio che viene dato agli elaborati che ne hanno le caratteristiche, sensibilizzarli proprio a pensare che un domani da adulti potranno sicuramente o potrebbero essere utili alla società. Garden Tress, da noi è sempre primavera, rivenditore ufficiale di Ortonio, terricci, concimi biologici, per tutto il mese di aprile, vasta esposizione di piante aromatiche. In apertura alla pagina sportiva abbiamo il basket con il Bassano a Padova per una sfida salvezza. Altro giro, altra corsa, ma questa però è l'ultima. Dopo il primo turno del play-out salvezza perso alla bella Dardignano mercoledì, Bassano si gioca la sua brava e definitiva seconda chance nella serie con Padova che comincia domani sera alle 18 nel capoluogo Patavino. Gara 1 all'Ombra del Santo, rivincita domenica 27 maggio al Palangarano ed eventuale bella dispareggio domenica 30 maggio ancora a Padova. Come dire che ovviamente sono gli avversari quelli favoriti per tradizione e fattore campo, ma l'Orange punta ugualmente al gran colpo poiché preservare la serie C gold per il quintetto cittadino sarebbe come vincere un campionato, visto che parliamo di sedicenni in pista e la squadra più giovane d'Italia, che se centrasse la seconda permanenza consecutiva in categoria con un organico di under, sarebbe da applausi scroscianti. Capitan Galea e i suoi amici dovranno metterla sul ritmo e sulla freschezza atletica per contrastare il mestiere e l'esperienza di Padova traducendo sul legno la rabbia dell'ultimo capoco nardiniano per rovesciare il destino e sparigliare subito la serie strappando il servizio ai rivali. E sulla possibile fusione tra Vicenza e Bassano c'è da registrare la posizione degli ultra del gruppo Grappa e in una nota fanno sapere, pur ringraziando la famiglia Rosso che i colori giallorossi e lo stadio mercante sono i principi irrinunciabili e che l'identità bassanese non va cancellata. Anche per questa sera è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. L'amministrazione comunale con la Prologo di Pianezze vi aspettano il 19 e 20 maggio alla 48esima festa della Ciliegia Sandra di Pianezze. Stand gastronomico, musica, balli e tanto divertimento. Genica